E' di iscriversi a quella scuola là, creano problemi di mobilità e quegli altri colleghi che stanno nell'altra scuola, non li licenziamo mica, li dobbiamo spostare nella scuola dove si sono iscritti tutti gli altri, capite che non hanno la minima idea di come funziona il mondo della scuola. Di più, seguendo questo schema, tra vent'anni, e io sarò ancora qui tra vent'anni perché oramai la pensione, poi magari Erino ce lo dirà, oramai la vedremo solo col cannocchiare sperando di non morire prima, e tra vent'anni nel mio consiglio di classe potrei avere colleghi che ogni tre anni hanno avuto i 60 euro e colleghi che non li hanno avuti, perché pur bravi non sono riusciti ad accedere a quel 66%, il che significa che io avrò una differenza stipendiale di 3, 4, 500 euro rispetto al collega, nel team di maestro è lo stesso, il che significa che pur facendo lo stesso lavoro identico sulla stessa classe noi avremo differenze di stipendio importanti, ripeto 3-400 euro al mese, quindi è un progetto ma io domando anche, noi siamo anche domandati ma con quale faccia si presenta, cioè come si fa a presentare un progetto del genere nella sua? Eppure c'è, se non avessimo iniziato a settembre a rompere le scatole, se non avessimo iniziato a settembre con la battaglia, soprattutto l'informazione, abbiamo consegnato 400.000 firme a Renzi che non ci ha degnato di uno sguardo, però erano lì, firmate, non le firme quelle virtuali, quelle che loro volevano lì su internet eccetera, quindi sicuramente questo ha rallentato, c'è un altro passaggio però interessante e poi concludo e lascio la parola agli altri, la banca ore, dobbiamo tornare indietro credo di una o due diapositive, perché poi vi vedo anche, eccola qua, questo è un'altra genialata di questi signori. Allora, da sempre vi dicevo prima, qui c'è un pregiudizio in questo documento, è il pregiudizio che l'insegnante lavora poco, fa tante vacanze, giusto ieri, l'odolodoria, io lo ripeto perché davvero è, ha riferito di una collega svizzera che dice guardate che sbagliate a chiamare le vacanze, si chiamano convalescenza questa qua, perché i vostri momenti di riposo vi aiutano a recuperare, non tutti purtroppo qualcuno poi da di matto, ti aiutano a recuperare lo stress che hai maturato in un rapporto frontale che non ha uguali in nessun'altra professione. Questi signori non hanno mai neanche guardato questa cosa qui, perché noi abbiamo un rapporto frontale con 60, 70, 200 alcuni colleghi alunni, continuamente per 41 anni e 6 mesi, 42 anni e 6 mesi, questa è l'usura, è questo il lavoro usurante, come si fa a reggere una situazione di questo tipo? Questi signori non se ne sono neanche posta la questione, non solo, loro pensano appunto che si lavori poco e cosa hanno inventato? Bloccati con Monti a suo tempo l'ipotesi di aumentare tutti di 6 ore eccetera, hanno inventato questo giochetto qua, loro dicono la regione Lombardia ci dà 210 giorni di calendario scolastico, poi i consigli di istituto di ogni singola istituzione ci inseriscono quel giorno in più, in meno, 2, 3, perché? Ma non per noi, per gli alunni che altrimenti avremo le cuore vuote, inutili perché ci sono i punti, ci sono le vacanze con la famiglia eccetera eccetera, in quei giorni ognuno di noi ha qualche ora di lezione, 2, 3, 10, quello che è, quelle ore verrebbero messe in questa banca ore, si chiama proprio così e su questo ho qualche dubbio che ci abbiano rinunciato, attenzione, verrebbero messe in questa banca ore a disposizione del dirigente scolastico che le usa quando gli servono e per fare ciò che gli serve, ad esempio le supplenze, ad esempio i corsi di recupero, ad esempio gli sportelli, ad esempio i progetti, senza scucire neanche un euro naturalmente, questo primo punto è un aumento dell'orario di lavoro a zero lire, a zero euro naturalmente, sono vecchio ancora con le lire, 2, non è solo quello, è anche una flessibilità nel nostro orario settimanale, vale a dire che in quel momento oltre alle mie 18, 24, 26 ore potrebbero chiedermi per quella settimana di farne 20, 22, 26 per coprire quelle necessità di cui la scuola in quel momento ha bisogno, quindi salta anche la certezza dell'orario settimanale e di più noi sospettiamo, questo è Grimaldello con cui forzare la porticina, poi l'anno prossimo ci diranno, beh ma anche a Pasqua e Natale voi siete a casa e fate un sacco di vacanze e quindi anche a Pasqua e Natale mi recuperate altri 5 giorni e poi l'anno dopo ancora, beh ma anche durante le vacanze estive voi siete a casa, quindi vi fate luglio e agosto, allora anche lì e quindi diventerebbe un sistema che porta automaticamente a un aumento dell'orario di lavoro e poi magari qualche ora di lezione in più e poi e poi e poi e così si apre una porta che diventa una sorta di fiume che non possiamo più fermare. Quindi questi due elementi, ne ho citati solo due, non andrei oltre se non per un breve inciso sui dirigenti e poi lascerei la parola agli altri redattori, ma sono due elementi forti che danno il senso e la filosofia di questo progetto, che è un progetto ripeto non per la scuola, ma contro la scuola. Un'altra, torno indietro, vai avanti leggermente, avanti avanti, 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 eccolo qua. Questo è l'altro, due brevissimi incisi. L'investimento, ancora domenica Renzi dice noi siamo l'unico governo che investe nella scuola. Non è vero, non è vero perché basta che uno di voi si prenda la briga come abbiamo fatto noi di andare a controllare i bilanci del Ministero, sono pubblici, sono le schede tecniche anche per la Camera, votati con la legge di stabilità. La differenza tra il saldo del 2014 e il saldo del 2015 preventivato è di 600 milioni di euro in meno. Quindi evidentemente non c'è investimento sulla scuola, c'è recupero di somme interne al bilancio della pubblica istruzione. Quindi ci sono tagli che vengono poi riutilizzati in altro modo. Il modo in cui vengono riutilizzati, vedete questo qui, io dicevo fin dall'inizio che l'assunzione dei precari, oltre che essere, come poi ci dirà Rino, obbligata per il governo, per la sentenza della Corte Europea, non per altro, avrebbero continuato tranquillamente a tenere i colleghi fino a 61 anni. Ieri una collega è venuta al tavolo, è entrata in ruolo a 61 anni, immaginate cosa vuol dire entrare in ruolo a 61 anni, cioè altro che i giovani che devono entrare nella scuola, è entrata in ruolo a 61 anni, cioè tra poco andrà in pensione, poveretta. Comunque è un contratto di solidarietà l'assunzione dei precari, oltre che essere obbligata alla sentenza della Corte Europea. Perché? Perché lo paghiamo noi, guardate i dati, i conti, loro pensavano e pensano ancora di risparmiare 350 milioni di euro dal blocco dello scatto 2013, e li hanno risparmiati. Dati del ministero, non li ho inventati io, non li abbiamo presi noi come centro studio, no, sono dati che trovate sul sito del ministero. Poi il blocco degli scatti 15-18 sono 3 anni, altri 350 per 3. Infine, il taglio alle supplenze brevi, perché con l'emissione in ruolo dei 130, 140, 150, ogni tanto danno i numeri precari, le supplenze brevi scompaiono. Il ministro ancora domenica ha detto che le supplenze brevi costano 850 milioni di euro all'anno, il che significa che loro considerano di risparmiare almeno 700. Escono i 3 miliardi che hanno pensato di mettere uno quest'anno nel 2015 e gli altri due nel 2016. Quindi abbiamo il quadro completo della situazione. Non c'è investimento sulla scuola, c'è semplicemente la richiesta a noi di guadagnare qualcosa in meno per dare il posto ai colleghi precari. e l'ultimo, l'ultimissimo dato, io l'ho messo, possiamo tornare sulla slide iniziale, quella dell'elenco, quella lì, l'ho parafrasato con tutto il potere ai dirigenti. Qui c'è un altro presupposto, lo dicono, esplicito questa volta, non sotteso, che dice l'autonomia è una bellissima cosa, noi abbiamo molti dubbi su questo, ma l'autonomia è una bellissima cosa, è l'innovazione principale della scuola italiana, però non funziona, se ne sono accorti, anche loro, non funziona l'autonomia, non va, perché questo problema, perché non va? Noi diciamo che è perché l'autonomia che non funziona, cioè sta dentro i meccanismi dell'autonomia, questi invece così sono invenenati, non va perché i dirigenti non hanno abbastanza potere, c'è scritto, andatevelo a leggere, bisogna quindi dare, io ho parafrasato il famoso soviet, tutto il potere ai soviet, tutto il potere ai dirigenti, bisogna dare più potere ai dirigenti, addirittura è previsto che possano disporre del 10% del fondo istituto senza nessun controllo, neanche quello dell'RSU che è già blando, ma senza neppure quello, è previsto che possano assumere i precari, secondo quelli che secondo loro sono migliori, è previsto che possano scegliere nell'organico funzionale le professionalità che servono nella loro scuola, quindi proprio un salto aziendalistico, perché è chiaro anche questa è una concezione di tipo aziendale, se il capo non ha potere la scuola non funziona, l'azienda non funziona. Ecco, su questi punti, ripeto, abbiamo girato l'Italia, abbiamo inondato in mass media, abbiamo coinvolto tutti i giornalisti possibili, immaginabili, purtroppo spesso da soli e questo va detto secondo me, perché credo che ci fossero stati più elementi, più un coinvolgimento maggiore anche delle forze politiche e sindacali, forse saremmo arrivati anche più lontano. Io credo che comunque questo vada assolutamente fermato, non possiamo accettare che la scuola diventi un'azienda perché la scuola non funziona come un'azienda, questo è l'assunto che mi sento di lasciare come battuta finale. Grazie.